buongiorno e benvenuti nel mio canale oggi vedremo come nascondere delle app nei dispositivi android non impedirne l'accesso ma proprio nasconderle completamente quindi impedire la loro visualizzazione anche direttamente nel telefono stesso vi mostrerò come farlo direttamente su one plus ma lo si può fare anche su samsung su samsung vi metterò le istruzioni scritte nel post che linkerò nelle informazioni sotto il video per quanto riguarda invece one plus ve lo faccio vedere direttamente dunque toccando per più di un secondo sullo schermo si vedono le impostazioni si scorrono le impostazioni come vedete c'è lo spazio nascosto si tocca sullo spazio nascosto ecco qua per accedere a spazio nascosto scorri verso l'esterno con due dita sulla schermata home quindi torniamo indietro andiamo nella schermata home e scorriamo con due dita una verso l'alto una verso il basso ecco qua lo spazio nascosto è ideale per la memorizzazione di app specifiche solo le app selezionate possono essere nascosti nel cassetto di one plus launcher le icone e le schede multitasking di un plus launcher le notifiche delle app e l'accesso da altre app non saranno limitati la password per lo spazio nascosto impedisce agli utenti non autorizzati di visualizzare lo spazio nascosto a differenza del blocco app che blocca tutti gli accessi alle app selezionate quindi si va su ok e adesso si va sul più per aggiungere un'applicazione a questo spazio nascosto va sul più e magari aggiungiamo un'applicazione che so bing andiamo su ok ecco bing è aggiunta allo spazio nascosto io posso chiudere e adesso posso accedere allo spazio nascosto prima però di nasconderla bene bisogna chiaramente abilitare la password quindi io devo andare qua sul menu e abilito la password ovviamente bisogna confermare la password posso utilizzare un pin oppure posso utilizzare il sensore di impronte magari in questo caso utilizzo il sensore di impronte ecco fatto quindi chiudo lo spazio nascosto il momento in cui io aprirò lo spazio nascosto ecco fatto io dovrò confermare con l'impronta digitale per poter utilizzare le app che ho nascosto in questo caso ho nascosto bing però ne posso nascondere quello e quelle che mi pare se io adesso vado nell'elenco come vedete è in ordine alfabetico non c'è più bing dovrebbe essere tra autenticator e blogger ma non c'è quindi bing è completamente nascosto anche nell'elenco delle app naturalmente io posso nascondere altre tutte quelle che mi pare e posso anche eliminarle cioè toglierle accedo e quindi quando scopri la metto nuovamente visibile a tutti naturalmente poi posso aggiungere delle app qualsiasi anche 234 e poi eliminarle in quel modo lì per esempio aggiungo che so è il droid è aggiunta nello spazio nascosto per invece farla diventare nuovamente visibile la seleziono vedete c'è scopri tocco su scopri e adesso è invece tornata nuovamente visibile nella schermata home questo spazio nascosto è interessante magari per nascondere applicazioni tipo whatsapp o telegram che magari se non si vogliono far vedere a persone che hanno l'accesso al nostro telefonino questo lo si può fare come detto su oneplus ma lo si può fare anche su samsung di cui ovviamente non ho un samsung ho solo questo di telefoni e metterò le istruzioni però scritte nel post posizionato nelle informazioni sotto il video chi ha un android però non è né un samsung né un oneplus può ugualmente nascondere delle applicazioni alla vista delle altre persone installando questo launcher nova launcher se si scorre come vedete c'è anche l'opzione hide apps per nascondere le apps questa però opzione è presente in nova launcher prime quindi dopo aver installato un nuovo launcher bisogna installare anche nuova launcher prime che si installa direttamente da questo lanciatore ecco qua nuova launcher prime quando abbiamo installato queste due applicazioni questa per prima nuova launcher solo e successivamente nuova launcher prime si apre le impostazioni di nuova launcher utilizzando lo scorrimento verso l'alto con due dita nella schermata principale oppure si può premere a lungo su un'area vuota della schermata principale quindi andare su impostazioni come il resto si fa negli altri dispositivi android nel dal menu impostazioni si va al menu del cassetto delle app nel cassetto delle applicazioni si scorre fino in fondo fino a trovare nella sezione delle app appunto l'opzione nascondi app ci si tocca sopra e chiaramente aver mostrato tutto l'elenco delle app installate nel nostro dispositivo android si seleziona la app che si vuole nascondere nel cassetto delle app basterà tornare semplicemente indietro per salvare le modifiche in modo automatico questo naturalmente per chi ha android che però non è un samsung o un plus in cui queste impostazioni dello spazio nascosto sono presenti di default e questo è tutto alla prossima volta